Due nomi, un uomo e una donna, che appartenevano fino a poche ore fa solo alla società civile. Dal cilindro Nicola Zingaretti tira fuori i suoi due primi assi nella manica della campagna elettorale. Teresa Petrangolini, 62 anni, una dei leader storici dell'attivismo civico in Italia, tra i fondatori di Cittadinanza Attiva, già nominata presidente del Comitato Elettorale, e Baldassarre Favara, 40 anni nell'arba dei Carabinieri. La sua carriera è iniziata come capitano a Trastevere per concludersi come generale comandante della regione Lazio. Una militante a difesa dei diritti dei cittadini, un rappresentante delle forze dell'ordine, paladino della sicurezza. Il primo passo concreto, secondo il candidato governatore, è per mettersi in sintonia con la voglia di rinnovamento della gente. La listina del presidente sarà piena di rappresentanti delle associazioni, dei movimenti, dei rappresentanti di professioni e questo è un modo di essere coerenti. Oggi iniziamo dalla legalità e della trasparenza, con due protagonisti di questi anni, due persone che in maniera diversa hanno servito lo Stato. Chi, dalla parte organizzando i cittadini, come Teresa Petrangolini, dell'associazionismo civico, è il generale Baldassarre Favara che ha passato la sua vita difendendo lo Stato dell'arma dei carabinieri e è arrivato fino ai massimi livelli del corpo dei carabinieri e anche questo è un modo straordinario di dimostrare come si può servire lo Stato da dentro, in questo caso, le istituzioni. Partecipazione dei cittadini alle scelte di governo, alle funzioni di monitoraggio, alla valutazione dell'azione pubblica, queste le priorità secondo Teresa Petrangolini. Avendo vissuto per 30 anni in questo mondo, in questo mondo dell'associazionismo civico, so che soprattutto nella regione Lazio non ci sono canali, non ci sono risposte, non ci sono feedback. Per farsi sentire devi fare solo grandissime proteste. Io vorrei veramente che in questa regione ci fossero dei canali ordinari, normali, in cui i cittadini possono far sentire la loro voce, presentare le proprie proposte, e discuterle, accettare anche di avere delle risposte negative, ma almeno averle. Rispetto della legalità e della trasparenza, l'obiettivo del generale Favara. La legalità in tutto tondo, non prenderei in esame solo le vicende della cronaca recente, a tutto tondo la legalità c'è bisogno di uno stretto rapporto con le forze dell'ordine, con le varie organizzazioni di categoria, la trasparenza negli atti, la partecipazione attiva della cittadinanza nei confronti delle decisioni che l'organo politico prende. Questa è legalità per me, al di là dei principi che poco fa avevo accennato, della onestà, correttezza e trasparenza. Zingaretti ha poi annunciato che per quanto riguarda le politiche non si candiderà né per la Camera né per il Senato. Io non mi candiderò né alla Camera né al Senato, perché credo che sia giusto che chi corre presidente di un'istituzione così importante deve fare il candidato alla Regione.